Al via i 32 mesi per la realizzazione della Casa della Salute della Val Polcevera nell'edificio ex trucco di Genova Bolzaneto, concesso da città metropolitana in concessione d'uso gratuita per 25 anni ad Asle 3. Un progetto condiviso tra Regione Liguria, Città Metropolitana e Comune di Genova, Asle 3, Municipi e Sindaci della Vallata. Nell'edificio troveranno spazio non solo i servizi sanitari e sociosanitari, ma anche quelli sociali. Partiamo con un piano sociosanitario che ha individuato che cosa si intende per area territoriale e parte dei servizi sociosanitari sul territorio in alleanza con medici di medicina generale, i nostri servizi e con anche gli enti locali. Quindi in questo luogo sappiamo esattamente cosa fare. Ed è questa la novità della nostra riforma del sistema sanitario. Finalmente un luogo che ha messo d'accordo tutti. E questa è una pagina bella, che fa piacere. E ringrazio i presidenti di municipio coinvolti e i sindaci che in una conferenza dei sindaci all'unanimità hanno chiesto che fosse questo il luogo. Quindi io li ringrazio perché evidentemente hanno anche agevolato il lavoro della STREPS e grazie al lavoro di Alisa, che ovviamente coordina e sovrintende alla parte area territoriale, faremo in modo che qui vengano date le risposte ai bisogni. La presa in carico, perché avere un luogo così, con queste dimensioni, significa che il cittadino non è poi costretto a vagare tra ufficio e ufficio spostandosi. Ma qui troverà la maggior parte delle risposte ai propri bisogni.